Un saluto da Nicole Olivieri a Gossip News, ciao! La storia cinematografica ideata da Mary Calvi. Dopo l'annuncio della gravidanza sui social network, la star dei Cesaroni è apparsa raggiante e innamorata. Nicole, per la serata mondana negli studi di Cinecittà, ha scelto un vestito da principessa che metteva in risalto il pancino. Accanto a lei l'elegantissimo Christian, pronto a scortarla ovunque. Il calciatore dell'ansio Lavinio, infatti, non la perde mai di vista. Per la giovane coppia è un momento d'oro. Innamoratissime e in dolce attesa, Nicole e Christian sono impegnati nell'organizzazione del loro matrimonio. Si sposeranno a luglio in un casale in campagna alle porte di Roma e intanto si godono le gioie della gravidanza. È un momento bellissimo, devo dire la verità. È magico e unico. Credo che nella vita di una donna, di una giovane donna, come vogliamo metterla, è il momento più bello. Mamma sarai. Una mamma giovane, inesperta, piena di paure. Sicuramente farò tanti errori, però sicuramente sarò... Grazie a tutti.